Biceglie è il noto regista ed attore Giorgio Albertazzi, soffermandosi a lungo anche su altri argomenti non meno interessanti, ma vediamo il servizio. Casanova è il nuovo spettacolo teatrale che Giorgio Albertazzi sta portando in scena in questa stagione. Ed in questi giorni Albertazzi è in Puglia, dove tra uno spettacolo e l'altro si concede al pubblico attraverso alcuni incontri con gli appassionati di teatro e con i giovani. Ieri a Biceglie il noto attore regista ha tenuto un incontro organizzato dal gruppo teatro PUC. La sala è raffolatissima e non si è parlato solo di teatro, ma anche di politica, attualità e rapporto televisione-teatro, insomma una disquisizione sulla società italiana. Albertazzi rispondendo alle domande degli intervenuti ha parlato del teatro definendolo una sorta di democrazia diretta e di atto collettivo. Delegare troppo chi ha il potere è pericoloso perché ne approfitta, come dire. Noi quanto abbiamo delegato in 40 anni di democrazia invece di arrivare adesso a quell'utopia che è la democrazia diretta, è chiaro. Ma il teatro è un caso di democrazia diretta. Un teatro io dico al signore del regno, così fa piccoletto il regista, dico non me la sento, non la dico questa qui, non me la dico. Come? Non delego a lui tutto, non devo delegargli tutto il potere perché delegargli tutto il potere significa fare la cosa che lui vuole, la sua e basta. Io mi ritrovo dopo 3-4 esperienze ad essere un suo esecutore senza più testa. Noi a furia di delegare, per ragioni indotte, prima perché c'era il pericolo, come diceva Montanelli, votiamo così, tappiamoci il taso e votiamo l'emocristiano. Tappiamo, prima perché votavi quello perché era contro quell'altro, non perché tu ci credessi in quello, ma perché serviva perché sennò quell'altro era peggio. Poi siamo arrivati a queste situazioni che secondo me sono bellissime, bellissime. Per me è un divertimento folle vedere tutte queste file di arrestati, portati nelle galere, processati, processati. Ora ci sono dei brutti segni in Parlamento, perché se il Parlamento fa gruppo, si trovano quelli lì e dicono ragazzi qui ci stanno facendo fuori, allora siccome hanno il potere di reciferare, possono fare una legge e poi ripararsi e noi bisogna dirgli no a questo punto, a questo punto bisogna veramente fare casino.